Alta tensione nel carcere San Pio X. A Vicenza sono 12 le aggressioni agli agenti di polizia penitenziaria dall'inizio dell'anno, 4 solo nel giro delle ultime ore. Detenuto di difficile adattamento ha subito, in prima battuta, colpito due agenti, firendoli gravemente. Con prognisi importanti anche che hanno raggiunto i 20 giorni iniziali e seguiranno sicuramente altre dinamiche sulla vicenda. Lo stesso detenuto ha aggredito ulteriormente altri due agenti con situazioni diverse. Nel carcere di Vicenza l'aria è pesante, la polizia penitenziaria sta lavorando sotto stress e soprattutto, secondo il sindacato, sotto organico. L'organico è sottodimensionato, seppur i numeri del decreto ministeriale parrebbero giusti, ma non lo è, perché dall'apertura del 2017 del nuovo padiglione, con il cambio degli utenti, quindi ad alta sicurezza, c'è stato un cambio di rotta proprio come forza lavoro. E quindi mangono all'appello conti fatti da noi, dall'amministrazione penitenziaria, di 73 unità. Mancherebbero 73 unità all'organico della polizia penitenziaria nella casa circondariale di San Pio X. e le aggressioni subite, che valgono come infortuni sul lavoro, portano a ridurre ancora di più le forze. 12 episodi di violenza subiti dalla polizia penitenziaria in questo 2024 sono un numero alto che portano i sindacati a decretare lo stato di agitazione. E' stato dichiarato lo stato di agitazione proprio per le difficoltà oggettive che il personale vive, quindi stress lavoro colorato, turni massacranti e forze lavoro con accorpamenti di servizio, che non di certo rientrano alla logica del contratto collettivo nazionale, ma ancora di più far arrivare detenuti da altre parti per il cosiddetto svuotacarceri. E così anche oggi viene rilanciata la proposta di istituire un osservatorio delle carceri, un organismo che sia in grado di valutare, dati alla mano, i problemi delle case circondariali e di portare a livello istituzionale le possibili soluzioni. Riteniamo che sia estremamente necessario che ciò avvenga proprio perché la parte politica si prenda conto di quello e renda conto di persone di quello che accade.